Ciao Bowler, benvenuto o bentornato sul canale ufficiale di International Young Bowlers. Io sono Marco Duva, un esperto di scarpe da basket e in questo video scoprirai se le KD15 sono veramente adatte a te. Partiamo subito dalla trazione, suola in gomma decisamente interessante, il disegno del pattern ricorda quello delle vecchie Kobe 9, purtroppo in questa colorazione non è facilmente comprensibile ma ricorda molto quel disegno. A livello di performance lavora decisamente bene e al momento è sicuramente tra le migliori del mercato. Se giochi su uno di quei campi super puliti dove il parquet è lindo e pinto che quasi ti ci puoi specchiare sopra, la trazione delle KD15 è davvero top perché permette di fermarti, non scivolare e di cambiare direzione molto velocemente. Se invece come me giochi su un campo più sporco, ho buone notizie per te. La suola delle KD15 tende a non accumulare troppa polvere, si può tranquillamente passare una mano e la polvere va via e performa bene. Se invece sei una di quelle belle da campetto, caldo, freddo, gello, neve, pioggia, tu sei sempre lì al campetto, purtroppo non ho buone notizie. Ti sconsiglio le KD15 perché queste parti, diciamo in rilievo della suola, sono decisamente morbide e tendono ad usurarsi un po' in fretta. Ricapitolando, voto alla trazione delle KD15 5 su 5. Passando invece al sistema di ammortizzazione delle KD15 Nike per queste scarpe, ho optato per lo zoom strobel a tutta lunghezza, che è davvero una buona compressione e un ottimo rimbalzo. Il cuscinetto zoom strobel è legato direttamente alla domaia e tra poco ti spiegherò il perché, ma comunque se lo vuoi vedere basta spostare la soletta e vedrai quella parte bianca divisa in sezioni, quindi spero che si vede in camera. Praticamente è diviso in sezioni perché lo zoom strobel non è altro che lo zoom air, però a tutta lunghezza, quindi su tutta la scarpa. Lo zoom air che cos'è? Di base sono dei cuscinetti d'aria pressurizzati con all'interno delle fibre decisamente elastiche che si comprimono e ritornano allo stato iniziale molto velocemente, donandoti una spinta in più quando salti, quando corri o comunque in generale quando giochi. Come ti dicevo in precedenza il cuscinetto zoom strobel è legato direttamente alla domaia perché Nike ha deciso in questo modo di ridurre il peso complessivo della scarpa e per aumentare la reattività. Dato che Nike non si accontenta facilmente, oltre al cuscinetto zoom strobel a tutta lunghezza, ha inserito anche nell'intersuola uno strato di schiuma soffice e leggera che aumenta decisamente il comfort e anche la reattività. Ok, ma come lavora questa ammortizzazione? Nell'area del tallone abbiamo una buona compressione che però risulta essere leggermente più rigida rispetto a quella dell'EKD14 e questa per alcuni può essere un aspetto positivo e per altri può essere un aspetto negativo. Se con l'EKD14 pensavi che la compressione nell'area del tallone fosse troppo soft, allora l'EKD15 rappresentano sicuramente una buonissima opzione. Passando invece arrivano dagli impatti, con l'EKD15 siamo veramente sul podio tra tutte le scarpe presenti sul mercato al momento. Mentre per quanto riguarda la sensazione Kurt Feel, quindi quella sensazione di aderenza al campo sotto alle proprie scarpe, lavora bene, c'è, ma non è a livello delle migliori secondo me sul mercato ad oggi, per quanto riguarda appunto questa sensazione, che sono le Carry 10 o le PG6. Tutto sommato però voto all'ammortizzazione di queste KD15 5 su 5, 5 stelle super 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 meritate. Passando ai materiali, la tomaia è fatta prevalentemente da mesh che si adatta bene al tuo piede e ti darà la sensazione di indossare un calzino. Ai lati della scarpa invece abbiamo questa gabbia in plasticatura che aumenta il supporto al piede, mentre per quanto riguarda la linguetta siamo allo stesso livello delle KD14 e abbiamo anche questi fori che aumentano la traspirabilità della scarpa. Mentre nel tallone abbiamo questo materiale sintetico che sembra un pochino scamosciato, che risulta essere davvero buono. A mio parere anche i materiali di queste KD15 meritano un bel 5 su 5, perché hanno un senso, sono equilibrati tra loro, la scarpa non pesa tanto, anzi, dopo vi dirò anche quanto pesa, sono traspiranti e comunque duraturi anche nel tempo. Passando alla calzata puoi acquistare le KD15 della tua taglia, quindi queste sono scarpe true to size. Non preoccuparti se all'inizio, soprattutto nell'area dell'avampiede, sentirai la scarpa essere molto aderente sul tuo piede, ma comunque dopo un po' i materiali tenderanno ad accedere e ti troverai bene. Se hai la pianta del piede leggermente più larga, innanzitutto ti consiglio di provarle in negozio se ne hai la possibilità, ma in caso acquistale di mezza taglia o di una taglia in più. KD15 che convincono anche per il supporto al piede. Contenimento laterale davvero ottimo grazie a queste aree della tua maglia rinforzate e alla gabbia in plastica dura che aumenta il contenimento laterale. In più, da selacci potrai scegliere quanto stringere questa gabbia intorno al tuo piede. Ovviamente più la stringi più il contenimento laterale sarà ottimo. Anche a livello dell'area del tallone il contenimento è buono, poteva essere leggermente meglio ma comunque è davvero molto buono. Unica pecca è che alcune volte potrai avvertire la sensazione di slittamento del piede in avanti o all'indietro all'interno della scarpa, ma comunque questo problema si risolve mettendosi un paio di calzini leggermente più imbottiti. Per dare un voto complessivo al supporto al piede di queste KD15 4 su 5 sono altamente consigliate 6, uno di quei giocatori veloci come un play, una guardia o una alla piccola che spesso fanno cambi di direzione sia in attacco che in difesa e che hanno bisogno di un buon contenimento laterale del piede. Nel caso in cui invece fossi un giocatore leggermente più statico che magari gioca più vicino al canestro rispetto a una guardia, una alla piccola o a un play ti consiglio comunque le KD15 soprattutto se ti piacciono scarpe dal taglio basso perché avrai un buon contenimento laterale del piede e soprattutto un buon riparo dagli impatti a livello di ammortizzazione. Peso delle KD15 380 grammi hanno lo stesso identico peso delle Kairi Infinity. Pace all'anima dei Kairi, ormai l'impiccio con Nike è concluso. Si va avanti, vediamo che cosa ci aspetterà in futuro da parte di Kairi. Comunque scarpe con peso nella media e pesano 10 grammi meno rispetto alle KD14. Ti ricordo che per segnalare il peso delle scarpe da basket si prende come taglia di riferimento la numero 43 e il peso di una sola scarpa. Quindi il peso delle tue scarpe aumenterà o diminuirà in base alla tua taglia. Voto complessivo del peso delle KD15 5 su 5. Secondo me voto meritato perché i materiali di queste scarpe sono ben equilibrati tra loro e il peso complessivo della scarpa è un ottimo peso pensato per giocatori veloci proprio come Kevin Durant. Il prezzo di lancio delle KD15 è di 150€ e le puoi acquistare con il nostro codice sconto PetrolioYB su PetrolioShop. Ovviamente trovi il link in descrizione. Ricapitolando, queste sono le votazioni generali delle KD15. Scarpe decisamente equilibrate che hanno un ottimo contenimento laterale, un'ammortizzazione veramente da paura e sono adatte a diversi tipi di gioco, specialmente quelli veloci. Bene Boller, siamo arrivati alla fine di questa recensione. Se ti è piaciuta metti like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ci vediamo nel prossimo video. Bella Boller!